Ciao a tutti amici, sono qui per dire il motivo della mia solitudine e tutto è cominciato quando mi sono accorto che a volte al trama al naso avevo subito anche questo, un trama al lato sinistro del volto e questo mi ha molto sconvolto, mi ha messo una gran paura ma io l'avrei superato, ci sarebbe voluto qualche anno ma l'avrei superato se non fosse successo altra negatività perché quello che voglio dire io è che se tu non realizzi i tuoi pensieri più positivi, più belli attrai solo negatività ed è quello che è successo a me non realizzando i miei pensieri positivi, belli, dell'amore, del lavoro ho attratto tanta negatività e questo è il mio messaggio realizzate i vostri pensieri positivi sempre, se non volete essere attratti alla negatività